Abbiamo creato un'app di ricerca rivoluzionaria e l'abbiamo chiamata RICERCA. Ricerca ti aiuta a trarre il meglio del tempo libero, perché il tempo libero è poco per tutti. Ricerca utilizza un algoritmo rivoluzionario che si ricorda non solo i luoghi che hai frequentato, ma anche i tempi in cui l'hai frequentato, perché quello che noi cerchiamo di giorno non è la stessa cosa di quello che cerchiamo di notte. Un'app che si ricorda i tuoi amici e ti propone di incontrarli quando siete vicini. Un'app che può usare tante cose che sa di te per proporti luoghi più interessanti, ma lo fa solo se vuoi tu. L'abbiamo pensata e l'abbiamo ingegnerizzata e adesso vogliamo che il mondo la possa utilizzare perché il tempo libero ce n'è poco e vogliamo liberarlo sul serio. Per far questo abbiamo bisogno del tuo aiuto e del tuo sostegno. Vogliamo avere i migliori programmatori, vogliamo che diventi un'applicazione efficiente, facile da usare, che ognuno voglia montare su qualsiasi tipo di telefonino e dispositivo portatile. È un'applicazione che può fare la differenza fra una lista di luoghi inutili e i due posti che proprio stavi cercando. Perché tra una ricerca e un'altra c'è la stessa differenza come tra il giorno e la notte.